vai vai più veloce più veloce Vicky aiuto mi lecca aiuto vai vai Vicky Vicky vai niente picchiala aiuto guarda cosa fa aiuto basta no continuo guarda che c'è il piatone aiuto 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 no basta vai vai aiuto 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 beh ma secondo te vai fatela aiuto vai vai aiuto aiuto senza aiuto aspetta proviamo a picchiarti Vicky 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 ti voglio menare nel dubbio ma fai un video lungo 5 minuti ancora saluta ciao Ciao!